Vado! Un sport più tradizionale come il calcio, la moto GP, poi mi piace sperimentare anche altre attività più particolari come il fagi jumping. Tre aggettivi per descrivere il tuo lavoro? Interessante, impegnativo e in continua evoluzione. Perché una persona dovrebbe voler lavorare nella direzione IT? Perché è il posto ideale per chi come me è appassionato di tecnologia e poi perché l'IT ha un ruolo sempre più importante e fondamentale per lo sviluppo e la competitività in un'azienda. Sei più nerd o più geek? Non lo so, credo è una via di mezzo. Un tuo sogno da bambino? Fare il pilota di Tornomo. Com'è stato il tuo Recruiting Day? Una bella esperienza e una bella giornata anche divertente con le varie prove di gruppo che devo dire anche molto originali. Dall'altra parte è anche molto impegnativa perché è stato difficile dare sempre il massimo per tutto il tempo. Cosa consigli ai ragazzi che parteciperanno all'evento? Non abbiate paura di sbagliare, date sempre il massimo perché è un'occasione che non capita spesso. Ciao! 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 Ciao!